L'agente Bones Mi senti, patrono? Sono sicuro di sì. Sì, esatto. Io, Edward Nigma, l'enigmista, anzi colui che ha un intelletto superiore al tuo. Il mio genio mi ha consentito di entrare nel tuo primitivo sistema di comunicazioni. L'obiettivo è semplice. Risolvi una serie di sfide difficili ma divertenti e... beh, poi vediamo. Sei pronto per la prima? Bene, ma sta attento. Non ferirti su quel ritratto così tagliente. Ho detto di non ferirti su quel ritratto così. Hai presente il ritratto e dipinto il quadro sulla parete? Siete incorniciato? È il ritratto di una persona severa. Il direttore Sharp, il vecchio che è a capo di questo posto, su un quadro su un quadro su una parete?